musica basta metti di là salto mortale sei pronto? si musica a organizzare questa discesa della Befana il merito ovviamente va dato tutto non a noi comitato della Befana ma ai vigili del fuoco ai vigili del fuoco il comitato di cesa della Befana con i vigili del fuoco giganti veramente che l'hanno riportata dopo tanti anni da piazza centrale di Velletri l'hanno riportata nella sua veste tradizionale quella che più piace ai nostri cittadini da Napoli per realizzarli in ricavata appunto sarà devoluta la nostra Croce Rossa che anche loro sono qui presenti oggi in piazza sempre come volontari hanno fatto un grandissimo lavoro per queste vacanze natalizie ed è giusto che questa città doni a loro quello che è ricavato perché molte volte operano su questo territorio con una veramente pochissima faccio un in bocca al lupo a tutta la commissione sportiva dall'assessore allo sport e a tutti voi per fare tanti progetti per cercare di riportare lo sport che già c'è e c'è sempre stato Velletri a livello mondiale a livello nazionale grazie a tutti spero di vincere l'anno prossimo il motivo per noi è grandissimo lo facciamo in suo ricordo ma soprattutto per portare avanti ancora la tradizione della Pasquella è iniziata intanto la discesa della Befana 2019 applausi piazza Chairoli grazie ecco la Befana che scende dal palazzo Gignetti ha salutato il comitato di scesa Befana prego Pino eccoci qua allora come ben vedete sta lanciando caramelle e dolciume tutti i bambini mi raccomando vai Befana butta più caramelle che puoi che ci sono tantissimi bambini che ti aspettano qui in piazza vai vai così ole ole svuota tutto il sacco sappiamo che hai fatto questa Natale 2018 grazie la Befana mi sente? grazie ciao Befana ciao ciao ma rimani lì ferma rimani? dai leggi un altro po' di cioccolatini caramelle dai finiti no mannaggia sono figli i priori sono figli i cioccolatini no no non sono figli adesso scende qui ce ne saranno altri grazie alla Befana grazie ai nostri di fio facciamogli un bel applauso facciamogli sentire vellegri e un ringraziamento particolare va anche all'ufficiale TARTA che è presente che ha coordinato tutte le operazioni e anche al gruppo del SAF che è una branca speciale di Dottimi del Fuoco quindi grazie a loro per questa manifestazione grazie al comune bambini facciamo un ciao alla Befana siete stati bravi quest'anno lo sono certo grazie alla Befana allora abbiamo intanto un momento da premiare tanto che la Befana scende grazie Befana ricordati i cioccolatini le idosciumi per tutti i bambini sia buoni che cattivi che oggi sono qui a Velleto Natale e emozionante siamo arrivati alla fine ce l'abbiamo messa tutta siamo certi di aver dato del nostro meglio e speriamo che il messaggio sia arrivato grazie ai tanti bambini e grazie a voi per quello che avete fatto veramente per questo Natale